Guardia Perticara è un comune lucano della provincia di Potenza, i cui abitanti sono detti guardiesi. Quella di Guardia Perticara è una storia antica, che comincia con gli enotri e si iscrive nella dura faccia della pietra. Un grappolo di case, su un rilevo, nella remota lucania fatta di pietra grigia, di verde e di argilla, di devozioni intense e di silenzio che si protende tra le case attraversando le stagioni. Sui gioielli in ambra, dei corredi tombali dei primi abitanti, sono passate le orde saracene e diversi terremoti, ma tra distruzioni e abbandoni, il paese è riuscito a mantenere la sua identità, che sotto i cieli mutevoli è sempre la stessa. Case arroccate, gradinate e scale che si inerpicano fino al castello, balconi in ferro battuto, archi, portali, ballatoi, fontane. È terra vera, con i suoi sentieri di campagna e i percorsi tra le cicale, con i profumi dei formaggi e delle carni, del rafano e della liquirizia. È il piacere della tavola quando lentamente sotto il paralume ci si trova insieme e si scacciano le tenebre. Il toponimo deriva da castrum perticari, la pertica nella tifondi longobardi, la parte di territorio assegnata alle famiglie dei coloni. Testimonianze archeologiche hanno rilevato, dalla prima età del ferro, ossia 900-800 a.C., la presenza di un abitato nel territorio di Guardia Perticara, peraltro documentato in forme sparse già nell'età del bronzo nel 1400 a.C. I reperti dei corredi tombali rinvenuti nelle necropoli in località San Vito arrivano fino al 500 a.C. e costituiscono una delle fonti più importanti per la conoscenza degli enotri, gli antichi abitanti di questa regione. Resti di grotte basiliane del 900 d.C. rivelano l'influenza greco-ortodossa. Guardia ospitò due asceti, Luca di Armento, fondatore del Cenobbio di Carbone e vitale da Castronuovo, ma venne distrutta da Seraceni e rimase a lungo disabitata. Nel 1237, durante il regno di Federico II di Svevia, il castrum Perticari figura tra i possedimenti della diocesi di Tricarico. Nel 1306 compare per la prima volta in un documento angioino il nome di Guardia Perticara e con la caduta degli Svevi e l'affermazione angioina il feudo venne assegnato a Giovanni Britando. Nel 1400 Guardia passa a Edemarra, signori Stigliano, mentre nel 1500 con la conquista spagnola ne divennero proprietari i Carafa. Nel 1652 i Francescani fondarono il convento di Sant'Antonio e nel 1657 un'etidemia di peste mette ben 500 vittime. Nel 1700, dopo i Carafa, Guardia entrò a far parte del dipartimento di Maratea come feudo del Marchese d'Altavilla. In seguito appartene agli Spinelli, sino alla fine della feudalità nel 1806. Nel 1857 un violento terremoto causò 85 vittime e danneggiò la struttura urbanistica, ancora più impoverita da un altro sisma nel 1980. Ma da quest'ultimo evento il borgo trovò la forza di progettare il recupero dell'antica dimensione architettonica ed artistica che restituì così al centro storico la sua dimensione medievale.